Ero spaventata l'idea di progettare la mia casa, ma grazie al supporto e alla professionalità di cicalesi interni mi sono ricreduta. Domani pomeriggio la Cavese affronterà il Biancavilla allo stadio Orazio Raiti nella 26esima giornata della serie di Girone I. I bianco-blu hanno la necessità e la possibilità di fare punti preziosi nella loro ultima trasferta in Sicilia del campionato regolare per poter alimentare ancora le speranze di raggiungere il primo posto a fine campionato e non potranno lasciare niente al caso. Domani il turno vedrà affrontarsi reciprocamente Gelbison e la Mezia Terme e un pareggio o comunque una mancata vittoria dei vallesi rimetterebbe in corsa la Cavese, qualora dovesse vincere a Biancavilla, ed eventualmente anche la Cireale che sta alla finestra e dovrà comunque giocarsi la partita a giarre. Nelle prime posizioni la classifica è guidata dal Gelbison a 50 punti, poi a Cireale 49, la Mezia 48, Cavese 47. Dal canto suo il Biancavilla ha solo 13 punti, appena 3 in più sul Troina che è 19esimo e rischierebbe di retrocedere qualora non riuscisse a schiodarsi dalla sua posizione attuale in classifica fino a fine campionato. Emanuele Troise ha presentato stamattina la gara di domani poveriggio a Biancavilla. Beh, è una bella incognita perché è una squadra che ha cambiato, sta cambiando sia in termini di struttura di gioco che in termini di atteggiamento, considerando anche un po' il turno infrasettimanale che li ha visti giocare contro la Versa, la Mezia, quindi è una condizione che potrebbe essere varia e dobbiamo essere bravi a prepararci in tutti i modi. Oh, è chiaro che avere qualche giorno in più a disposizione aiuta, aiuta tutte le squadre. Comunque i turni infrasettimanali comportano un certo tipo di dispendio e di poca preparazione, quindi in tal senso credo che sarà un periodo dove potremmo preparare le partite al meglio. Biancavilla Cavese inizia con 5 minuti di ritardo rispetto all'orario ufficiale precedentemente deciso, quindi non più alle 14.30 ma alle 14.35 per disposizione della Federcalcio che ha simbolicamente stabilito ciò per invocare una soluzione pacifica alla crisi ucraina. La Cavese potrebbe giocare con Anatrella, Potenza e Caserta, Aliperta, Lomasto e Viscomi, Bacio Terracino, Corigliano, Allegretti, Romizzi e Banegas, tutti a disposizione di Troise, ad eccezione del lungodegente Altobello, quindi imbarazzo della scelta per l'allenatore. Probabile risposta del Biancavilla, allenato da Emanuele Ferraro, Faraone, Adagi e Puglisi, Tosolini, Di Laura e Longo, Licciardello, Giuff, Spadoni, Bozzanga e Santa Paola. Squalificato l'esterno a zero, dovrebbe sostituirlo Alai, Adagi sulla destra. I tifosi di Cava a Biancavilla ci saranno. Tra ieri e oggi i biglietti per accedere al settore ospiti dello stadio Raiti sono stati già venduti. Erano solo una cinquantina quelli disponibili. L'arbitro di Biancavilla Cavese sarà il signor Emanuele Ceriello di Chiari, i suoi assistenti della Mea di Udine e Tortolo del Basso Friuli. La gara sarà trasmessa in diretta domani su RTC Quartarete.